I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Messina su richiesta della DDA peloritana relativo al patrimonio societario, mobiliare e immobiliare per un valore di circa un milione di euro riconducibile a un soggetto ritenuto appartenente al clona mafioso dei barcellonesi. L'uomo colpito dal provvedimento è un ex appartenente alla polizia penitenziaria ed ex gestore di note discoteche di Milazzo che a seguito delle indagini risalenti all'operazione di dinastia è stato condannato anche in secondo grado per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. Sulla scorta degli approfondimenti economico-patrimoniali condotti alla Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo con gli specialisti del GICO di Messina è stata rilevata una disponibilità di beni in misura sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati. In particolare è emerso un quadro incoerente e sperecuato rispetto alla lecita capacità reddituale con riferimento a contratti di leasing nettamente superiori rispetto all'aredito dichiarato. Nel corso dell'attività quindi sono stati sottoposti a confisca due compendi aziendali comprensivi dei relativi beni patrimoniali attivi nel settore del noleggio autoveicoli e attrezzature per lavori edili, un immobile nel comune di Milazzo, otto autoveicoli e tre rapporti finanziari per un valore complessivo di circa un milione di euro.